What's up, signori? Siamo pronti per un live su Code 4, forza me la godo! Olaaa! Abbiamo tutti quanti. Ritorno su Code 4. Innanzitutto ringrazio di nuovo, sempre e infinitamente, anche tutti i fratelli che si iscrivono sul mio secondo canale, JohnnyXVendetta, dove sto facendo il road to comment su MV3 e vedrò di film il più fretta possibile, perché io devo provare a fare assolutamente road to comment su Code 4, perché è una cosa costante sognata! Se avete capito, scrivetelo nei commenti, attendete di iscriveri Johnny. Il cazzo hai detto, veramente, sei uno psicopatico, ma comunque avete perfettamente ragione. Farò un risultato assolutamente orrendo, perché non faccio tutti contro tutti su Code 4 da più o meno 12 anni, però il risultato non conta quando si fanno i live, bisogna semplicemente soltanto divertirsi, signori, a parte Ron che fa dei video incredibili, anche se è live, quell'uomo lì si chiama Code di cognome. Comunque veramente, siccome MV3 sta risultando un po' giocapi, io devo farci il road to commander sul canale. Qui me la scazzeggio un po' in tutti contro tutti su Code 4. Wow, 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 wow. Che è? C'erano tutti il centoquarantesimo occasione. Mannaggia voi! E a chi va creato, disgraziati. Cioè, è la seconda occasione lì, Juggernaut, non so come si chiama qua. Sì, mi pare già Juggernaut. È un perk. Fermo. Oh, fermo. Oh, accidenti, che sfiga! Fermo, fermo. È morto. Oh! Che è sta laggata? Vabbè. Tanto col culo che ho io. Mamma mia. Tutti i giochi mi laggano in una maniera incredibile. Fermo. Mamma mia, che è che non more? Che cacchio è? La sfida all'ultimo sangue questa, proprio, eh. Il ritorno su Code 4 è molto arduo. Tanto lo so che... Tanto lo so che stai a camperare qua, disgraziato. Ma porca! Che sfiga, signori! Ma io non ho mai visto una sfiga del genere. Ma ce la faremo. Arriveremo almeno terzi. La partita è ancora lunga. Le difficoltà del nostro eroe sono ancora molte. Sfiga! Non l'ho preso una volta. Viva Bender! No. Fermo, fermo! Proviamo a prendere un altro fucile, va? Dovemo tutti i giochi di prestigio. Ma forse un neutralizza bonus. Perché come volte voi, ovviamente, lo sapranno tutti. Se in modalità normale non metti neutralizza bonus, non muoiono con un colpo. Quindi vi consiglio assolutamente di metterla, signori miei. Perché se no, state lì a dire... Ma che cazzo sta succedendo? Come questo qui, che è il mio colpo, porca miseria, 3-7. Tutti i live li fanno impressionanti, 180-0. Io faccio dei punte... Dei punte... Guarda! Pure Juggernaut! Pure Martirio. Pure gli aerei. Io faccio dei punteggi, de' merda. Vabbè, andro ci siamo abituati ormai. Eccolo lì. Anche il lag. Anche il lag. Si ci mette anche il lag. Ma vaffanculo. Questo è un complotto. Non ci vado su Mv3. Code 4. Yeah. Anche se sto 7000... Vieni qui. Anche se sto 7000-1, code 4. Di se ne prendi. A meno mi disintossico un po' da Mv3, perché code 4 il gioco più bello del mondo. Si può dire qualche simula parte di quel cazzo di camper che sta lì fermo. E non more! Non more! Coraggio, guys. Coraggio. Where are you? Guarda l'elicottero che lagga sulla mappa. Hai visto? Oddio! Oddio, che elicottero laggante, signor. È l'elicottero di lama, quello. Che cazzo fa l'elicottero? Non ho fatta prendermi. Ma che è? Non si capisce manco dov'è. Ma che cazzo sta succedendo in questa partita? Oh, doppi colpi. È un po' laggante. Ma chi se ne frega, io la finisco. Stima verso le partite laggoidi. Carica! Carica! Redetto Juggernaut! Se si chiama così, ma non me lo ricordo più. L'MP5 è overpower in questo gioco. Non more! Non more! Incredibile! Incredibile! Ma chi se ne frega, io ci sono di guarda. Per la centesima volta. Ma! Disgrazieito! Hai gaccia! Eh, mamma mia, c'ho un po' di laghi in questa partita, eh. Mi hanno detto che c'è qualcosina di laghi. Secondo te sono nato ieri. Forza! Porca miseria! Ho la Desert Eagle più scassa di tutto con quattro, io. Quando mai? Quando mai? Ma che cazzo è, oh! Pure qua sto a fare tutti i marker. Di nuovo. E poi mi riciulano. Bello così, eh. Bello! godere delle vittorie altrui. Che frase filosofale. Cosa deve fare Harry Potter con le mie... Lui ha la pietra filosofale. Io c'ho le frasi filosofali. Com'è affatto? Cos'è 16-17? Porca miseria. Oh, quando stai su Mv3 che i cecchini, cioè, sono velocissimi qua per tornare al... Senza gioco di prestigio o estrazione rapida, come si vuole chiamare, ci metti un po'. A parte che io prendo tutti i marker, è una cosa impressionante. Che culo! Dancing to the... Vieni qui, vieni qui! Vieni qui! Oh! 18-19. Vediamo di fare questa figura di merda, almeno di finirla in positivo. Che ne dite, ragazzi? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porca miseria! Uh. Eh. Che sfiga Terzo Terzo L'avevo detto Signore il ritorno Ci ritorneremo Non vi preoccupate Vi amo se volete iscrivervi A tutti i canali Della terra Quello di Johnny Creek Cioè che sarei io Veramente me la godo Vi amo tutti quanti Stima totale Johnny Creek Amore reciproco Totale